ragazzi in questo video qua sono in mezzo al bosco sono in un bosco che in teoria non dà granché eppure oggi ho trovato un bel tesoretto che è questa qua guardate qua guardate che sberla questa è una mazza di tamburo ok è chiusa è chiusa quindi bisogna aspettare che si apra io adesso questa la prendo pulisco ovviamente bene tutto la metto in un bicchiere d'acqua e dovrebbe aprirsi e con questa dovremmo mangiare una bella bistecca di mazza di tamburo insomma qui con la mia mazza di tamburo vi faccio vedere un'altra bella un'altra cosa interessante queste pigne qua vedete che qua sono anche più grandi questo è uno splendido esemplare di pino mugo di queste terre qua della val di sole dove presi infatti poi farò una scorta se messi in un bellissimo liquore viene fuori una roba buonissima buona 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 sul serio quindi grande il pino mugo vedete qua ne pieno questo è tutto pino mugo vedete qua non ha ancora fatto le pigne quello sì intanto io ho qui la mia mazzona di tamburo enorme che 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 mi rende orgoglioso perché questa speriamo che si apra subito perché è buonissimo questo da mangiare fritta veramente ve lo consiglio fate solo attenzione la mazza di tamburo a diverse cose la mazza di tamburo ha diversi sosia velenosi quindi fate attenzione perché se sono troppo piccole molto probabilmente sono velenose quindi non fate cavolate angolo di bosco dove non c'è più granché da farvi vedere perché oggi la giornata era brutta non mi sono addentrato tutto spero comunque che vi sia piaciuto questo piccolo video tutorial abbiamo trovato pigne di pino mugo ma soprattutto il mazzone di tamburo vi faccio fare solo l'ultimo giro qua vedere se troviamo qualche fungo anche non buono ma a pan brodo gli occhiali qualche fungo magari non buono ma che vi può servire no niente non c'è proprio niente e niente prossimi video ovviamente sarò felice di farvi vedere altri altri meraviglia anche di questi posti fantastici